Benvenuti a tutti a Jason Vlogs! Stiamo giocando a calcio! Let's go! Sei pronto, Alex? Ma è ovvio, Jason! Andiamo! Forza, andiamo! Dai, lancia! Ops! Alex! Alex, stai bene? No, non sto bene! Vuoi forse una pizza? Una pizza? Ok! Lo sapevo! Andiamo! Urrà! Pizza! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ragazzi! Siamo arrivati! Prendiamo la pizza! Let's go! La farina per la pizza è l'ingrediente più importante! Guarda lì! Ma dove sono i funghi? Eccoli lì! E dove sono invece i pomodori? Eccoli qui! Abbiamo anche bisogno di formaggio! Prendiamo questo qui! E infine del buon pollo! Dimenticavo anche le cipolle! Prendiamo queste, va bene? Ma lo sai che a me non piacciono le cipolle! Che buzzardo! Non è vero! Penso che abbiamo finito! Possiamo andare, Alex! Va bene! Questo è tutto! Fantastico! Andiamo a casuzza! Sì! Da questa parte! Ciao, ragazzi! Oggi faremo una pizza! Questi sono gli ingredienti! Verrà davvero buonissima! Molto bene! Sono proprio curioso di vedere come farai la pizza! Forza, fammi vedere! Iniziamo a vedere gli ingredienti! Let's go! Allora, il formaggio, i pomodori, i peperoni tagliati fini, i funghetti, la cipolla, un po' di pollo, della salsa e dell'olio! Ora inizierò a fare la pizza! Ma tu non potrai guardare! È una sorpresa! Non posso guardare! Esatto! Ok, ok, me ne vado! Ciao, ciao! Adesso preparerò la mia pizza segreta! Molto segreta! Inizierò con l'olio! Ora ci metto un po' di salsa di pomodoro! Perfetta! Ora un po' di pollo! Sembra davvero molto buona! Adesso ci metterò un pochino di peperoni! E adesso un po' di funghetti! Sono così strani! Aggiungiamoci anche un po' di cipolle! E ora il mio ingrediente preferito! E' il formaggio! Ed ecco la bella pronta! Guardatela! È pronta da infornare! Cosa? Wow! Sembra buona! Ok! La inforniamo! Aspettami qui! Ok! Ok! Useremo questo per proteggerti le mani! Il forno è molto caldo! Ok! Ora aspettiamo 15 minuti! Bene! Alex! La pizza è nel forno adesso! Certo, Jason! Ovvio! E ora tocca a me! Jason! La mia pizza sarà migliore! No! Sì! No! Sì! No! Sì! No! Sì! No! Mettiamo un po' d'olio d'oliva! Adesso un po' di salsa! Ecco qui! Si stende tutta così! Molto bene! Anche fuori dai bordi! Hai capito bene, Jason? No! Non si fa così! No! Non si fa! No! 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 La mia pizza! Lasciami! Guarda bene! Lascia qua! Non riuscirai a rovinarmela! Ora andiamo di polletto! Pollo! Pollo! Ehi Alex! Guarda! C'è un tesoro laggiù! Dov'è? Ehi! Non rubare la mia pizza! Non toccarmi la pizza! È la mia pizza! Ora è il momento di un fiume di cipolle! Uh! Alex! Guarda di là! Tantissime cipolle! Alex! Ascolta! Fiume di cipolle! E direi che basta così! Alex! Sembra proprio un'ottima pizza! Ehi Jason! Che cosa c'è? Dimmi che c'è! Guarda! C'è una cosa bellissima laggiù! Ehi! Ehi! Dammi la mia pizza! Questa è la mia pizza! Perché mi rubi la pizza? Ora mettiamo un po' di funghetti! Ok, ok! Mettiamone un pochettino qui! Sparsi così vanno bene! Ora che i funghi sono sulla pizza, possiamo passare a mettere un po' di peperoni! Oh! Ah! Devo farlo io! Che cavolo! Ah! Va bene! Ora mettiamo un po' di pomodori! Ehi! Fermati! Ehi! Oh no! Cavolo! Non è così che doveva andare! Ok, ok! Adesso un po' di formaggio! Aspetta! Ehi! Ehi! Aspetta un attimo! Sei proprio un ladro di formaggio! Oh no! Che cosa hai fatto alla mia pizza? Che cosa hai fatto? Beh, che posso dire? La metterò nel forno, andrà bene! Secondo me, non è più una pizza! Ok, metterò in forno questa pizza pazzesca! Ovviamente prendendo tutto con la presina! Ora aspettiamo solo che sia pronta! Guardiamolora! Dovrebbe essere pronta! Oh, è davvero molto bollente! Facciamo con molta calma! Ok, ok, wow! Sembra davvero buona! La pizza di Jason sembra molto buona! Ora tocca alla mia pizza! La prossima pizza sarà la mia! Uh! Non sembra male! Oh! Molto bene! Quale delle due sembra più buona? Ovviamente la mia! Credo che tu abbia ragione! Prenderà un pezzo della tua, Jason! Va bene! Grazie per averti guardato! Ora mangiamo la pizza! Ciao! E non dimenticare di seguirmi su Instagram! Jason Vlogs Live! Ehi! 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 Che cos'è questo? Credo che faccia dei succhi di frutta! Sì, è vero! Guarda, puoi avere quello alla mela! Al limone! Alla fragola! All'arancia! E al lampone! La proviamo, Alex! Ok! Prendo un bicchiere! Ok! Uno per Alex e uno per Jason! Oh yeah! Ok! Ecco il tuo bicchiere! Quale vuoi? Arancia! Molto bene! Io voglio il lampone! Oh oh! Oh oh! È vuoto! Jason non funziona! Che sta succedendo? Penso che abbiamo bisogno di tanta frutta! Ok! Prendiamone un po' in giardino! Oh yeah! Ok! Jason, che cerchiamo? Un'arancia! E un lampone! Andiamo! Da questa parte! Andiamo di qua! Forza! Andiamo da questa parte? Va bene! Cosa? Che cos'è questo? Ci sarà la frutta! Apri lo tu dai! No no tu! No tu ti piace il blu! Dai ti prego aprilo! No ti ho detto tu! E va bene lo aprirò! Ma che cosa ci sarà? Oh! I lamponi! Quello che mi serviva sì! Proprio per questo ti ho detto di aprirlo tu! Ok! Continuiamo! Oh! Guarda che cos'è questo? Un nuovo viola! Aprilo tu! No tu! Ti ho detto tu! Aprilo tu! Alla volta! No tu! Tu aprilo tu! E va bene! Arance! È quello che mi serviva! Arance! Ora possiamo provare a fare i succhi di frutta! Andiamo! Yeee! Ok! Dai! Ora proviamola! Lampone! Certo! Funziona! Non sembra buono! Yummy! Yummy! Tocca a me! Tocca a me! Tocca a me! Ora beviamolo! Yummy! Yummy! Abbiamo bisogno di più frutta! Andiamo a prenderla! Ok! Andiamo! Forza! Andiamo! Corriamo! Andiamo! Forza! Oh! Oh! Guarda lì! Un uovo! Dai! Aprilo! È un limone! È un limone! Sì! Prendiamone altri! Forza! Corri! 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 Forza! Guarda un altro! Eccolo qua! Che bello! Un altro uovo! E dentro ci sono delle fragole! Che bello! Sì! Fragole! Torniamo indietro adesso! Ehi! Che tipo di uovo è questo? Stai attento, Alex! Non toccarli ci! Lo buttalo via! Va bene! Lo butterò proprio qui! Un dinosauro! Un dinosauro! Scoppiamo! Corri, corri! Scappiamo! Ci vuole attaccare! Forza! Statene lì! Oh no! Ti prego! Non ci attaccare! Oh Jason! Dobbiamo correre veloci! Guarda qui! C'è un altro uovo! Corri Jason! Veloce! Andiamo dentro! Dobbiamo correre dentro! Forza! Oh! Appena in tempo! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Ed ecco tutte le uova! C'è la gialla! La rossa! E quella rosa! Così funziona tutto di nuovo! Ed ecco i bicchieri per il nostro succo! Dammi, dammi! Ti prego, dammi! Io berrò il succo alla fragola! Gustosa la fragola! È molto sana! Io voglio tutto, ragazzi! Voglio tutto! E come farai? Guarda qui! Pam, 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 pam! Ed ecco che ho tutto! Assaggialo, Jason! Assaggialo! Certo che lo assaggerò! E' gustosissimo! È gnammi! Gnammi! Ciao! Oh! Noodles! Gnammi! Noodles! Aspettiamo! Sì, sto facendo i noodles adesso! Adoro i noodles! Sì! Oh, sì! Sì! E ora mangiamoli! Amo troppo i noodles! Sì! Gnammi! Rignam! Sento odori di noodles! Alex, mi dai dei noodles? Noodles? No! Per favore! No! Ma io voglio tanto mangiarli! Beh, puoi avere questo, Jason! Eccolo qua! Io voglio i noodles! Eccolo qua! Jason, prima devi provarlo, no? Ok, va bene! Ci proverò! Molto bene! Ti piace? Eh, no! No! Facciamo noi i nostri noodles! Prima cosa, prendete la pasta da gioco e stendetela bene! Ok! E ora prendetela in mano! Poi si mette qui dentro! E ora schiacciate forte, forte! E ora tirateli fuori ed ecco i miei nuovi noodles! Ma voglio molti più colori! Benvenuti nel mio negozio vendo Play Doh! Chi vuole un po' di Play Doh? Vendo Play Doh! Vorrei del Play Doh! Ecco, tieni! Grazie! Ora scegli il Play Doh! Io voglio prendere tutti questi! Certo, puoi prenderli! E quanto costa? Dieci, per favore! Ecco a te! Grazie, arrivederci! Sì! Facciamo un po' di noodles, ragazzi! Prima cosa, prendere la pasta da gioco! Seconda, aprirla! Terza, aprire la macchinetta! Quarta, buttarla tutta fuori! Infine schiacciarla! Falla diventare piccola piccola! E mettila dentro! Ora schiaccia bene! Wow! Che cosa? Voglio giocare anche io! E ora, tiralo fuori! Sì, molto bene! Anche io voglio giocare! Naturalmente! Che bello! Wow, ragazzi! Wow! 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 Perché non proviamo con tutti questi colori? Sì, sarà un bellissimo arcobaleno! Ok, ragazzi! Mettiamolo dentro! Ok! Dai, schiacciamolo insieme! Wow! Jason, ma tu sai fare i veri noodles? Ma certo! Andiamo allora, forza! Mangeremo tanti noodles! Sì, noodles colorati! Molto colorati! 3, 2, 1, via! Mangiamoli, Jason! Mangiamoli! Divertiti! Deliziosi! Deliziosi! Yummy! Molto buoni! Sono molto buoni! Gustosi, sì! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!